Covid, recovery in calo, a Marche Nord chiude un reparto di terapia intensiva. Maltrattamenti domestici e violenze di genere, due nuove denunce registrate a Fano. Economia circolare per i parchi cittadini, il progetto della Onlus Gulliver. Sport e la Carpegna Prosciutto perde contro Brindisi, nuovo sponsor per Little Service. Buonasera, oggi è giovedì 15 aprile, questo è il telegiornale di Rossini TV. In apertura questa sera partiamo parlando di alcune novità riguardanti la sanità, perché è stato chiuso ieri all'ospedale di Pesaro uno dei quattro reparti di terapia intensiva destinato ai pazienti Covid, misura che, come ci spiega nel servizio il direttore sanitario di Marche Nord, il dottor Edoardo Berselli, permetterà la ripresa di parte dell'attività chirurgica. Vediamo. Il calo dei ricoveri per coronavirus nelle strutture sanitarie marchigiane passa anche per Pesaro. All'ospedale Marche Nord, infatti, è stato chiuso ieri uno dei quattro reparti di terapia intensiva dedicati ai pazienti Covid. Riorganizzazione che, come spiega il direttore sanitario di Marche Nord, il dottor Edoardo Berselli, permetterà il ripristino dell'attività chirurgica. Anche noi stiamo vivendo finalmente questo periodo dove la patologia sta rallentando, quindi questa pandemia sta un pochettino rallentando come numeri. Siamo riusciti a chiudere la quarta rianimazione, ma come dicevo tre rianimazioni sono ancora perte, quindi abbiamo ancora 31 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Che cosa fa la chiusura di questa rianimazione? entra nel meccanismo di rotazione dove cerchiamo di spostare immediatamente le risorse dove ci sono i bisogni. Quindi vuol dire che quelli che non restano liberi, ma immediatamente ci permettono di fare da volano per recuperare gli interventi chirurgici, perché in questo momento le chirurgie, nel massimo, nel clou della pandemia, abbiamo dovuto ridurre le attività chirurgiche, quindi queste riprenderanno. Le prenderemo con le massime attenzioni tenendo aperto un reparto filtro dove quei pazienti che non hanno due tamponi negativi vengono tenuti in osservazione per evitare che sviluppino un'infezione durante il ricovero, per evitare cluster, quindi tutta una serie di sforzi straordinari che ancora non ci permettono di abbassare la guardia e tornare alla normalità. Immaginiamo solo il fatto che dobbiamo tenere una distanza di un metro e mezzo, due metri tra ogni posto letto, questo vuol dire che ci riduce pesantemente il numero di letti a disposizione comunque e a prescindere. Abbiamo ancora 31 letti occupati di terapia intensiva, una settantina di pazienti, quasi 80-78 in sede intensiva, abbiamo una trentina di leggenti di Covid ordinari, uno in ospettricia, ma i numeri che mi piacciono di più sono i numeri del pronto soccorso. Quando registravamo 20-30 accessi al giorno per pronto soccorso per Covid, oggi gli accessi per Covid a ogni pronto soccorso a Fano sono non più di due o tre e a Pesaro abbiamo un positivo ricorderato questa mattina, un positivo che è stato a restire ricorderato questo pomeriggio e quattro tamponi che devono essere verificati se positivi o negativi. Questi sono numeri che ci fanno respirare un attimo e ci fanno ben sperare che siamo finalmente in una fase di regressione della patologia. Novità anche sul fronte vaccini, con la comunicazione giunta dall'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini, il quale ha annunciato l'imminente apertura di un nuovo slot per le prenotazioni. Da lunedì infatti potranno registrarsi e fare domanda per la vaccinazione sulla piattaforma delle poste i familiari o i caregiver delle persone disabili. Dei 99.000 soggetti interessati, 1.600 hanno già ricevuto la somministrazione dopo aver accompagnato alla seduta vaccinale nei vari ospedali della regione i loro assistiti e familiari. Proprio per la categoria dei disabili, sottolinea l'assessore, è prevista un'accelerazione delle inoculazioni che permetterebbe di chiudere le vaccinazioni a loro riservate entro la fine del mese. C'è ancora da attendere invece per la prossima fascia anagrafica in programma. Le somministrazioni per i cittadini d'età compresa tra i 60 e i 70 anni partiranno all'inizio di maggio e la prenotazione per la categoria sarà aperta a ridosso dell'avvio delle inoculazioni. Continuiamo a parlare di Covid e del servizio sanità con tutti i dati relativi ai contagi nel nostro territorio. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.772 tamponi, 2.371 nel percorso nuove diagnosi, 2.401 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 326 con 87 casi nella provincia pesarese. Alto invece il numero dei decessi registrato ieri dal servizio sanità, 19 a livello regionale. Cinque vittime erano residenti nella provincia pesarese. In primo piano questa sera parliamo anche di cronaca e ci spostiamo a Fano perché sono stati denunciati due nuovi casi di violenze domestiche e di genere. Le indagini della polizia infatti hanno permesso di ricostruire il quadro di atti persecutori eseguiti da un uomo nei confronti dell'ex compagna, la quale è riuscita a denunciare le esternazioni verbali, i pedinamenti e le minacce ricevute che con il passare dei mesi sono state rivolte anche alla figlia maggiorenne della coppia per motivi economici. Non troppo diverso anche un secondo caso per il quale il commissariato fanese ha attivato un altro codice rosso. Un'altra donna da diverso tempo subiva infatti umiliazioni e sofferenze fisiche e morali da parte del convivente con cui spartiva la gestione di un'attività commerciale. Anche in questo caso per l'uomo è stato predisposto il divieto di avvicinamento alla vittima. Ed ora torniamo a Pesaro. Questa mattina infatti la polizia municipale è intervenuta al Parco Miralfiore per il ritrovamento di altre polpette avvelenate destinate ai cani. Non è la prima volta che nella più grande area verde della città vengono purtroppo ritrovati dei bocconi pericolosi e destinati agli amici a quattro zampe. Recente era stato il ritrovamento di questi alimenti proprio nel Parco di Villa San Martino. Sono partiti subito i controlli per provare a risalire ai responsabili del gesto e nel frattempo sono stati posti dei cartelli per segnalare il pericolo. Ed ora cambiamo completamente argomento. Parliamo di scuola perché è trascorsa ormai più di una settimana dalla ripresa delle lezioni in presenza per le classi medie e le classi superiori della città. Osservato speciale dunque torna ad essere il trasporto pubblico locale che proprio per la ripresa delle lezioni in presenza ha predisposto nuove figure gli steward per controllare il rispetto delle regole nelle fermate più importanti della città. Con la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza torna ad essere centrale il lavoro e il servizio del comparto trasporti che quotidianamente accompagna gli studenti a scuola. L'organizzazione dei mezzi e le misure messe in campo, spiega il direttore di Adrebus Massimo Benedetti, sono rimaste invariate dal piano attuato precedentemente all'ultima sospensione dell'attività didattica in presenza, fatta eccezione per un'importante novità introdotta proprio a partire da questa settimana. L'agenzia di vigilanza privata La Fenice di Marotta si è infatti giudicata il bando di gara emesso da Adrebus per la ricerca di steward con il compito di vigilare e controllare il rispetto del distanziamento e delle norme anti-covid da parte degli studenti nei punti di fermata principali della città, che a Pesaro risultano essere quelli posti in piazzale Matteotti, al campus e presso l'istituto alberghiero e quello agrario. Siamo ripartiti esattamente come avevamo smesso l'ultimo giorno con il provvedimento di sospensione delle attività didattiche, quindi avevamo già un sistema abbastanza rodato, avevamo visto nei 20 giorni, un mese che avevamo, dopo la ripresa delle festività natalizie, un sistema che comunque avevamo retto, avevamo aggiunto dei servizi di vigilanza alle fermate eccetera, adesso questo servizio è stato ulteriormente potenziato con delle unità esterne, sono circa 10, è una presenza che è sempre di supporto per gli studenti che si apprestano a prendere il mezzo di trasporto pubblico, soprattutto in quei momenti in cui c'è un'alta concentrazione degli stessi, questi steward, chiamiamoli così, invitano comunque a mantenere le distanze, invitano a mantenere un uso responsabile, un uso responsabile appunto alla mascherina, nel contempo danno anche un'occhiata e danno un supporto al nostro personale, verificando anche il numero delle persone che salgono a bordo, quindi sono ulteriori occhi a supporto dell'intero sistema. Sono stati aggiunti dall'inizio dell'anno circa 22 autobus aggiuntivi rispetto al programma di esercizio ordinario, così come avevamo annunciato da tempo, sono entrati in servizio anche agli ultimi che sono arrivati al ridosso delle vacanze di Natale, quindi con la ripresa delle attività scolastiche abbiamo introdotto ulteriori mezzi che, diciamo così, oltre ad essere di più, sono anche nuovi, quindi sicuramente più efficienti e sicuramente anche più confortevoli. Noi abbiamo formalmente e ufficialmente richiesto che anche la categoria degli autobus venga inserita tra le categorie che possono con priorità essere vaccinate. Attendiamo naturalmente gli sviluppi, c'è qualcuno che deciderà, insomma, sa quello che deve fare nell'ordine giusto. La pagina delle segnalazioni oggi ci porta a Novilara, sotto le mura di Sant'Egidio, dove un nostro telespettatore ci ha indicato che alcuni cittadini o residenti della zona da diverso tempo abbandonano ramaglie e fogliame derivante dalle potature in giardino. Una pratica ovviamente non corretta, inoltre a pochi metri di distanza dal punto di abbandono è posto un cassonetto destinato proprio alla raccolta del verde. E continuate a segnalare tutto quello che non funziona nel vostro comune oppure nel vostro quartiere chiamando il nostro numero della redazione 370-366-7210 oppure mandandoci proprio a questo numero un messaggio su WhatsApp. E adesso cambiamo argomento perché dobbiamo parlare di un importante progetto promosso dalla Onlus Gulliver è presentato questa mattina. Al centro dell'iniziativa la riqualificazione dei giochi nei parchi della città. Lo sentiamo nelle interviste al presidente della Gulliver Andrea Boccanera e all'assessore all'operatività del comune di Pesaro Enzo Belloni. Grandissimo progetto nella città di Pesaro. Noi invitiamo le famiglie a portarci le cose che non sono più in buono stato. Fra un po' avremo il cambio di stagione quindi gli abiti anche qualsiasi oggetto che a casa avete non utilizzate più ma è in buono stato a portarlo nelle sedi della Gulliver. Noi questi oggetti, questi abiti li doniamo in continuazione alle famiglie bisognose e quindi a chi ha bisogno nella città di Pesaro. Il surplus lo mettiamo nelle nostre tre botteghe, ricordo, via Toscana, via Rossi e piazza Redi e tra poche settimane un nuovo punto in via Rossi dove le persone possono venire, prendere un oggetto e lasciare l'offerta. Con queste offerte cosa facciamo noi? Continuamente facciamo un lavoro in città, pitture nelle scuole, sistemazioni di parchi e acquistiamo oggetti per le scuole. Il nuovo progetto, poi davanti col comune di Pesaro, grazie a mille della Dora e all'assessore Belloni, è quello di altro giro. Quindi l'invito è portiamo più oggetti alla Gulliver, venite a trovarci nelle nostre botteghe perché ricavato del vostro scambio con la vostra piccola offerta fa sì che riusciamo a acquistare dei giochi nei parchi. Il nostro impegno è quello di ogni due mesi fare una donazione in un parco. Nel mese di maggio faremo le prime due opere grazie a questo progetto. Parco Scarpellini intorno a Muraglia, abbiamo già messo un'altalena a cesto, una free library. Entro maggio faremo un nuovo scivolo in legno, molto carino. Fine maggio in un altro parco metteremo un'altra altalena a cesto per gli disabili. In città ci sono 65 parchi giochi, le richieste per riqualificare i giochi, per mettere giochi nuovi sono tantissime e abbiamo un confronto costante insomma con la comunità. Abbiamo subito proposto alla Gulliver. Il primo intervento ci sembrava giusto partire dalle origini. La Gulliver parte con il mercatino di riuso al parco Scarpellini. Nel parco Scarpellini c'era una richiesta che arrivava ai nostri assessorati già da tempo rispetto all'acquisto di uno scivolo e insomma hanno provveduto già a formalizzare l'acquisto e contiamo nel giro di due o tre settimane insomma di metterlo e di rendere ufficiale insomma questa bella azione. In questi mesi dettati ovviamente dalla grave crisi a causa del covid sono aumentate anche le richieste di chi si reca appunto alla Gulliver anche per bene di prima necessità. Sì attualmente abbiamo 140 famiglie parliamo di 400 persone che vengono a prendere il pacco alimentare settimanale. In più abbiamo una parte di 600 persone che possono venire a prendere gratuitamente gli oggetti, il mobilio o gli abiti. Quindi riusciamo a fornire a città di Pesaro e nei comuni limitrofi questi beni gratuitamente. Le persone sono tante e sempre in continuo aumento. Dallo scorso marzo abbiamo avuto un incremento del 50%. In questi mesi l'incremento è del 30%. Stimiamo a fine anno con il fatto della fine del blocco di licenziamento o altro che la platea sarà in forte aumento. Quindi ripeto l'invito ancora una volta, l'abito buono in casa, l'oggetto, il piatto, il bicchiere o acqua, qualsiasi cosa in casa che non usate e volete buttare via invece che ancora in buono stato, portatelo al centro di riuso intercomunale via Toscana 111 con i nostri volontari, doniamo queste cose bisognosi e il surplus che può essere preso da chiunque dietro un'offerta. Lo limitiamo in tanti progetti, compreso il nuovo progetto e l'altro giro. Questo pomeriggio il vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, ha partecipato alla conferenza delle regioni in cui sono state aggiornate le linee guida per la riapertura di alcune attività che attualmente sono ancora chiuse, tra queste ristoranti, palestre, piscine, strutture termali, cinema e spettacoli dal vivo. Le proposte elaborate dai dipartimenti di prevenzione della Regione sono state inviate al comitato tecnico scientifico dal quale si attende ora un pronunciamento. Urbino conferma l'adesione all'itinerario della bellezza di Confcommercio. Nei giorni scorsi il direttore generale di Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord con l'assessore al turismo del comune di Urbino hanno definito le misure che Confcommercio adotterà per valorizzare la città di Urbino con il progetto itinerario della bellezza. Il consigliere regionale Luca Serfilippi è stato nominato nuovo commissario della Lega Giovani Marche dal coordinatore federale dei giovani Luca Toccalini. Ed è arrivato anche dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci il cordoglio per la scomparsa dell'ex sindaco di Lunano Tonino Salvatori. Salvatori fu uno degli amministratori più longevi della provincia guidando la sua città per tre mandati dal 1990 al 2004. Ed ora la pagina sportiva del nostro telegiornale. Questa sera partiamo parlando di basket e del match che ha visto ieri la Carpegna Prosciutto Pesaro perdere purtroppo alla Vitrifrigo Arena con Brindisi. Ce ne parla in questo servizio Edoardo Orazzi. Sconfitta per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che nel match di ieri alla Vitrifrigo Arena contro l'Eppi Casa Brindisi ha perso per 86 a 62. La squadra pugliese, nuova capolista e reduce dalla vittoria contro l'Olimpia Milano, impedisce dunque alla VL di avvicinarsi alla zona playoff. I biancorossi si fermano a quota 20 in classifica e coach Repesa ha commentato così la prestazione della squadra al termine del match. Sarebbe scorretto non partire senza fare complimenti per una veramente grandissima prestazione, non solo stasera, nell'ultimo periodo come stanno facendo e complimenti di cuore. Da una parte sarebbe scorretto non fare scusa, completa nostra tifoseria e società per una partita persa, per non pareggiare giocando a casa con energia, è solo per questo. Purtroppo non sono riuscito, avete visto che ho provato, 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 dare un periodo difficile per me, per mia salute, dove in Poscovi sto veramente faticando per riprendere completamente di nuovo, ma purtroppo qualcuno con vent'anni non riesce. Questo è un dispiacere enorme e così. Possiamo andare a playoff, possiamo retrocedere, purtroppo è così. Purtroppo, 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 tutto va da quella pausa che è successa dopo Coppa dove l'altri hanno lavorato, noi no, dove non è stato coach e purtroppo si vede che non siamo stessa squadra. Stiamo provando, facciamo fatica a rispondere ai 40 minuti, la Bologna abbiamo fatto benino, diciamo così, prima di tutto tirando bene da tre, segnando 12 triples, guarda, in 20 minuti non succede ogni giorno, siamo stati più 15, ma alla fine rischiando di perdere la partita. Sai perché non abbiamo avuto energie fino in fondo. Oggi, onestamente, abbiamo incontrato una squadra con molta più energia, molto più fisica, atletica di noi e ci ha massacrato fisicamente, atleticamente, uguale, praticamente, con cambi sistematici in difesa. Non abbiamo la squadra che può fare contro questa difesa, purtroppo. Continuiamo a parlare di sport, in questo caso di Italservice Calcio A5. Ieri, infatti, alle ore 16, poi in replica alle 22, vi abbiamo fatto vedere la diretta della conferenza stampa che annunciava un nuovo sponsor per l'Italservice Calcio A5. Abbiamo realizzato diverse interviste che potete vedere in questo servizio. È stato presentato ieri al Palanino Pizza il nuovo partner dell'Italservice Calcio A5 che collaborerà con la squadra per un anno. Stiamo parlando di Banca Megliolanum e la collaborazione è nata dall'incontro della private banker della sede di Rimini, Alessandra Cellucci, con il presidente bianco-rosso Lorenzo Pizza. Per noi è un piacere essere qui oggi. Io ho conosciuto il dottor Pizza grazie a un comune amico e quando l'ho incontrato ho riconosciuto in Lorenzo Pizza quei valori, quella forza di passione che ogni giorno anima noi private banker di Banca Megliolanum. E quando una persona ha un sogno, ha un progetto e tu nel tuo piccolo puoi dare un contributo, beh, se realizzi i sogni degli altri puoi anche realizzare i tuoi. Ecco, in cosa consiste questa collaborazione? Noi in questo momento ci facciamo portavoce dei valori di una banca che è sul territorio sicuramente conosciuta e vogliamo dare un supporto alle persone che lavorano, collaborano con l'Ital Service Calcio A5 perché il dottor Pizza ci ha raccontato che ha dei progetti importanti e vogliamo dargli un supporto, perlomeno essere a fianco a un imprenditore di successo che vuole realizzare i propri sogni, ci rende onorati, insomma anche da parte nostra ci fa piacere collaborare con chi è un leader. Un partner importantissimo, un partner che farebbe invidia tantissimi, entra insieme all'Ital Service nel mondo del calcio a 5, quindi siamo veramente onorati di questo, siamo onorati e questo ci fa capire che comunque la nostra società si muove bene, ci stiamo muovendo bene e abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, per ultimo il presidente della divisione calcio a 5, Luca Bergamini, che tra l'altro è un uomo molto vicino anche al calcio a 11, quindi alla FIGC, quindi questo ci rende molto molto orgogliosi e il ringraziamento sicuramente va a tutti i miei dirigenti, a tutte le persone che lavorano costantemente, assiduamente insieme a me quotidianamente nel quotidiano, a mia moglie che lavora tantissimo e sempre per questa meravigliosa società e un grazie veramente di cuore alla dottoressa Alessandra Cellucci, responsabile dell'ufficio di Rimini di Mediolanum, che ha scelto la nostra realtà per diffondere il marchio in maniera sempre più consistente qui anche a Pesaro, nelle Marche. Allora, una breve sintesi di a che punto siamo con il campionato, obiettivi a breve termine? Allora, il campionato adesso entra nel momento clou, nel vivo, perché la prossima settimana inizia la Coppa Italia, che tra l'altro verrà giocata, ironia della sorte, proprio a Rimini, dove siamo partiti dall'ufficio Mediolanum, quindi al 105 Stadium e verrà giocata dal 22 al 25 aprile. Poi, finita la Coppa Italia, ci sarà il recupero con l'Acqua e Saponi il 28 aprile, l'ultima giornata di campionato e poi iniziano i play-off, quindi una cavalcata meravigliosa, è il momento più emozionante, più bello, quello che noi tutti amiamo, perché diciamo è proprio quello che ci porterà alla Coppa Italia, alla finale Scudetto, al play-off Scudetto. Speriamo di arrivare in ottime condizioni, perché come sapete tutti abbiamo avuto dei positivi nel gruppo, sembra che la catena fortunatamente sia stata interrotta, quindi speriamo di avere i giocatori al meglio, anche se sarà molto difficile, perché ancora in tanti stanno recuperando. Penso che il vero nemico in questo anno e mezzo è stato il Covid per la nostra squadra, perché in campo nazionale ed internazionale avevamo fatto bellissime cose, continueremo a farle perché noi andiamo avanti e avere una partnership così importante oggi è un momento di grande gioia, un grande brand che si avvicina a noi, in senso che ovviamente c'è grande accreditamento dell'Ital Service anche a livello nazionale, questo deve essere un momento di soddisfazione per il nostro presidente e tutta la società, perché quando c'è una partnership così importante vuol dire che si pensa al futuro, si pensa a crescere e si pensa a crescere con qualità ed alto livello. Presenti alla conferenza stampa che abbiamo trasmesso in diretta su Rossini TV, anche il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli e l'assessore allo sport del comune di Pesaro, Mila della Dora. L'azienda Ital Service, Nino Pizza, era un'azienda storica di Talacchio, di Colbordolo prima oggi di Vallefoglia e quindi per noi è un piacere, oltre che un dovere, esserci perché nella competizione internazionale è una delle aziende importanti e anche per le attività sportive. È un onore storico, io ero molto amico anche col padre, con Nino Pizza, che era una delle prime aziende nella zona industriale di Talacchio quando io ero da ragazzino già tra sindaco e quindi diciamo è una doppia soddisfazione dal punto di vista imprenditoriale perché è un'attività che va bene e che sta potenziando le proprie attività e anche dal punto di vista sportivo e poi con Pesaro ormai siamo tutt'uno. Mi fa piacere essere qua, è una realtà del territorio che porta il nome di Pesaro, come ho detto, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Un grosso in bocca al lupo, il mio augurio è da Sassuolo Sport che si possa rivedere presto un grande pubblico come ci aveva abituato negli ultimi tempi di Tal Service Calcio A5 perché è quello che ci manca, è quello che manca allo sport. Diciamo il sesto uomo nel caso di Calcio A5 è una componente importante oltre che a ridare un po' vita e speranza a tutti noi. Domani sera alle 21.15 su Rossini TV potrete vedere uno speciale dedicato al giardinaggio con tantissime novità per questa nuova stagione in collaborazione con Garden Florio. Allora questa sera vi diamo una piccola anticipazione e dei consigli per il vostro giardino. Abbiamo deciso di portare a Pesaro un grande assortimento di piante grasse e piante tropicali tra le più particolari. Ad esempio qui possiamo vedere monstere, filodendri, alocasie. Sono tutte piante di origine, diciamo, asiatica, del Centro America, che hanno queste foglie molto grandi e delle maculature molto particolari, quindi sono ottime come elemento d'aredamento proprio. Inoltre una nuova pianta veramente curiosa, in realtà più che una pianta è un'alga di forma sferica, il suo nome è il marimo, e dietro c'è proprio una leggenda veramente romantica. Si narra di fatti che nell'antico Giappone c'erano due giovani il quale amore non poteva essere corrisposto a causa delle famiglie appartenenti a due clan rivali. Così loro, forti del loro amore, decisero di scappare sulle rive del lago Akan e di donare il loro cuore trasformandolo in un marimo, in modo da riposare per sempre sul fondo del lago e di tanto in tanto risalire per prendere una boccata d'aria. E questo è proprio un movimento che il marimo fa in natura per riprendere luce, diciamo, in cima al lago e poi riscendere nuovamente. Ed è questo proprio che gli dà questa forma sferica. E invece tra le piante grasse, tra le più particolari, vi posso mostrare il mirtillo cactus che è una pianta che è originaria del Messico che in natura produce dei piccoli frutticini il quale sapore è simile a quello di un mirtillo. In generale ce n'è veramente per tutti i gusti. Pensate soltanto che a livello delle piante grasse abbiamo oltre 150 tipologie di piante differenti. E adesso siamo arrivati in chiusura del nostro telegiornale. Questa sera, come tutti i giovedì, torna una nuova puntata di Insieme a Canestro, il focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro alle 21.15. Gli ospiti di questa sera sono Giovanni Illuminati, Loris Carbonetti e Giorgio Secondini. E poi domani mattina a Casa Rossini una nuova puntata indiretta. Le ore 10 vi aspettiamo, non perdetevela perché domani avremo con noi Moreno Bordoni che è segretario provinciale della CNA Pesaro Urbino, Davide Dellonti che è il sindaco di San Lorenzo in campo e scopriremo insomma tante notizie riguardanti questo bellissimo comune dell'entroterra e poi avremo anche il presidente dell'Avo Pesaro donato su Foletta. E poi vi ricordiamo che domenica manderemo indifferita alle ore 21.30 tutta la partita del Bramante Basket Pesaro. Così inauguriamo una nuova collaborazione con una squadra veramente avvincente che vi terrà compagnia e soprattutto potrete seguire le partite di questa squadra. Ho detto davvero tutto, adesso vi lascio con il meteo e vi do appuntamento a domani con la rassegna stampa condotta da Daniele Romagna alle ore 7.20. Buona serata.